Oggi è il primo gennaio, io amo venire a Napoli in questa giornata con i suoi vipoletti, una città che mi accoglie ancora dormiente, ma che mi dà la possibilità di poter gustare ancora di più la sua bellezza. Una delle mie tappe preferite è appunto questa chiesa che vedete alle mie spalle, la Basilica del Gesù Vecchio, meglio conosciuta come la Madonnina di Don Placido. Ci troviamo in via Paladino, che è appunto una traversa di Spacca Napoli, quindi è molto facile anche da raggiungere, è un po' nascosta e questa la rende ancora più bella. Che cosa succede qui? Il sabato successivo al 30 dicembre fu istituita da Don Placido, il sabato privilegiato. La Madonna gli chiese di istituire questo momento di fervente preghiera e qui tutti i fedeli napoletani, il sabato successivo al 30 dicembre, ritrovano un momento di forte preghiera, vengono qui a chiedere grazie e intercessioni alla Madonna. Quindi se vi vado in un momento di fede, di traduzione, potete venire qui, sabato grossi, per poter gustare il sabato privilegiato, o meglio la Madonnina di Don Placido.